Senza muovere i piedi, inaltate ed evitate. Stessa cosa, come in Kiryu Roshi. Prima che arrivi non dovete andare a cercare il suo braccio. Dovete prima evitare il suo attacco, poi andate contro l'altro. Caricate con la mano destra e attaccate in centro. Caricate con la mano sinistra. Quando apre, uno, due, andate a prendere con la mano sinistra, non prendete la panetta. Qui lui vi fa girare, vi fa girare, vi portate sul fianco. La mano destra deve squilibrare. La sinistra, Muranaio. Ok? Adesso dovete caricarvelo sulla pancia, su, e poi lo mette.